Giornali e social sono troppo, fin troppo piene di notizie o presunte tali che rappresentano ansie, stati depressivi, fragilità, solo nel momento in cui queste sfociano in drammi. L'ambito territoriale sociale 13 ci ha lanciato invece una sfida, parlare non dell'albero che cade, ma della foresta che cresce, non della solitudine ma della socialità, non della malattia ma della cura. Conosceremo il lavoro di squadra dei sette comuni coinvolti, Osimo, Castelfidardo, Loreto, Numana, Sirolo, Camerano o Fagna, per un bacino d'utenza di 84 mila persone. Seguiremo il lavoro quotidiano dei protagonisti di questo progetto ad integrazione sociosanitaria che unisce centro di salute mentale, associazione Buonumore, famiglie e utenti. Perché non siamo soli, perché non siete soli. Care amiche di ATV, cari amici di ATV, ben ritrovati. Puntata dedicata al lavoro nell'ambito della rete del sollievo, perché di lavoro si deve vivere. È uno strumento, è un mezzo, ma non sempre è a disposizione di tutti. Questo è un primo punto di partenza. Abbiamo come ospite il dottor, da noi ribattezzato professor Defendi, perché davvero ci sta insegnando tanto a uscire da certi schemi mentali, scavalcare certi muri concettuali secondo cui il tema della salute mentale non va trattato o va trattato solo quando purtroppo si estremizza in situazioni di cronaca che mi ben conosciamo. E invece c'è una vita che vive accanto a noi e noi la vogliamo più vicina per capirla, per comprenderla, è quella delle persone che vivono una questione, un tema di salute mentale, che poi sia un percorso di difficoltà. Dopo il Covid sappiamo bene che i numeri sono anche aumentati. Ecco, vogliamo conoscere, conoscere per capire, capire eventualmente per anche aiutare. Perché magari, come abbiamo accennato nella prima puntata, la banca del tempo è un progetto che ci piace contro la solitudine che viviamo in un momento della vita tutti quanti, la solitudine. Allora, dottore, l'ho fatta troppo lunga, vorremmo capire bene perché così, partiamo da una domanda difficile, perché è così difficile collegare, legare il tema della salute mentale al lavoro? Che problema c'è? Si lavorano, tutti quanti abbiamo problemi, fatiche mentali quotidianamente, eppure per qualcuno diventa quasi una cosa da ostracismo addirittura. Si, i tassi di disoccupazione nella salute mentale e il lavoro sono altissimi. Sono altissimi. Si, diciamo che la salute mentale, intesa come le persone che ruotano intorno a questa tematica, hanno spesso e volentieri delle difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro. Le porto un esempio, noi in vent'anni di attività, noi abbiamo un'agenzia lavoro, poi magari dirò che cosa facciamo, e mediamente una persona, di media una o due persone all'anno, noi riusciamo a trovare un lavoro, quindi a inserirle un lavoro inteso con un contratto nel mercato libero del lavoro, ok? Quindi un contratto a tutti gli effetti. Ma la domanda non è tanto quante persone noi abbiamo in questi vent'anni inseriti, che saranno più o meno 20-25. Più o meno dall'anno. Esatto, orientativamente. La riflessione è, quante di queste persone l'hanno mantenuto a questo lavoro? Zero. Praticamente nella nostra esperienza purtroppo la maggior parte delle persone, se non tutte, il lavoro l'hanno perso, poi magari l'hanno anche ritrovato, ok? Però è sempre un interrompo, un interrompere perché? Perché la salute mentale, come abbiamo anche già detto, è una materia complessa e agisce sulla funzionalità e sull'adattamento della persona. Questo che cosa significa? Che agisce sulle relazioni, perché noi abbiamo sempre l'idea che lavorare è solo ed esclusamente svolgere, avere un'abilità tecnica. Il mantenere un lavoro significa avere una maturità relazionale, significa avere capacità di socializzare, significa avere delle capacità di gestione della propria persona in riferimento al contempo lavorativo. Quando la salute mentale entra in crisi, diciamo, una delle prime ricadute è qui e le aziende giustamente del territorio non nascono con motivazione da natura sociale, per quanto noi abbiamo nel territorio marchigiano, comunque le aziende che frequento io, tra virgolette, sono delle persone sensibili, aperte e disponibili, ok? Soprattutto il cooperativismo nella nostra zona funziona. Però dopo un po' comunque c'è un qualche cosa che contrasta, quindi lo stato di crisi, lo stato di difficoltà con la richiesta di funzionalità, quindi la richiesta di assunzione del ruolo. Purtroppo è un tema delicato dove… Seppure nella Costituzione italiana, il primo rigo dice proprio l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, c'è un concetto di diritto che dovrebbe essere un po' un'arma nelle vostre mani. Sì, è un diritto che, ripeto, in tutte le maniere cerchiamo di esaudirlo e di ottemperarlo, però a volte il diritto al lavoro contrasta con il diritto alla salute, la mettiamo così. Che spesso si identifica un livello, banalizzo, quasi mi vergogno di dirlo, ma una persona a posto è una persona che lavora, che fa le sue cose… Il lavoro è una visibilità di normalità, ovviamente, per quanto il lavoro, magari ne parleremo dopo, porta tanto benessere ma porta anche malessere, cioè il lavoro non è la panacea di tutti i mali, dobbiamo cercare di mettere i puntini sulle i perché… Però nell'immaginario collettivo è quello che comincia al lavoro… Nell'immaginario collettivo che il lavoro… Sì, 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 infatti anche voi giornalisti, quando succede un qualche cosa, la prima cosa che fate è un impiegato, un operaio, un medico… È quello che intendevo. Esatto. Anche per chi vive questo percorso, il risultato dell'inserirsi in un ambito lavorativo sarebbe davvero la ciliegina sulla torta, ecco forse perché è così difficile. Sì, sì. Per cui c'è questo matching che voi create, una sorta di agenzia, come funziona? Allora, una piccola definizione del lavoro. Lavorare non è fare una routine, non è solo un'attività psicomotoria. Lavorare significa essere, oltre ad avere delle capacità, delle abilità tecniche, anche delle capacità relazionali. Capacità relazionali e le abilità tecniche portano ad una maturità. Ci siamo? La maturità relazionale che cos'è la maturità per entrare a lavorare? Quando uno è autonomo nel proprio posto di lavoro e porta avanti le proprie… la richiesta di produzione di beni e di servizi in autonomia, in collaborazione con tutti. Quindi non è né centrato sull'obiettivo, magari sul collega del lavoro dove la persona chiede sempre aiuto e non è nemmeno al contrario completamente allontanato, non si allontana completamente dove da un certo punto di vista si isola e non collabora. È nel mezzo il lavoro. Quindi la maturità relazionale è essere autonomi per una richiesta di assunzione di ruolo. Noi per arrivare a questo, visto e considerato che le persone che hanno delle difficoltà di salute mentale a volte in questo incontro hanno delle difficoltà, abbiamo messo in campo alcuni strumenti, fra cui l'orientamento professionale per cercare di dare, questo è il bisogno, lo facciamo, per cercare di dare un orientamento appunto qual è il miglior lavoro sulla persona, anticipando prima i vincoli, cercando di ragionare prima su che tipo di lavoratore sono. Cosa implica una grande conoscenza della persona che avete di fronte, uno studio approfondito? Diciamo che attraverso uno strumento del bilancio delle competenze, attraverso delle simulate sui colloqui del lavoro, attraverso una formazione, tra virgolette, su come si ricerca attivamente un lavoro, aiuta chiunque. Queste sono politiche del lavoro europee, però noi le caliamo su situazioni di difficoltà legate alla salute mentale. A questo noi facciamo un servizio di consulenza, un servizio di mediazione per le persone con delle difficoltà, ci occupiamo dei tirocini in collaborazione col centro di salute mentale, ci occupiamo dei tirocini di inclusione sociolavorativa, quindi il decreto di giunta regionale 593 del 2018 e siamo un punto di riferimento per le persone del sollievo, che vengono al sollievo per ogni qualvolta se necessita di una parola sul concetto lavoro. Anche perché può capitare che nel corso della propria vita non consideriamo solo il punto di partenza, cioè non ho lavoro, lo devo cercare. Nel corso della propria vita chi svolge un'attività a un certo punto del proprio cammino può trovare una difficoltà nello svolgere il proprio lavoro, nel mantenimento del lavoro e anche lì andate ad inserirvi. Posso chiederle come mai secondo lei, anche se banalizziamo, lo so, è così difficile per un datore di lavoro affidarsi ad un lavoratore con un percorso di salute mentale e in un dialogo che lei immaginare, che lei farebbe con eventualmente un imprenditore, facciamo la prova, invece che uno all'anno proviamo a farne due all'anno, un imprenditore, un'imprenditrice che siano all'ascolto in questo momento. Che parole utilizzerebbe per cercare di non tanto convincere ad assumere, quanto se non altro aprire ad una riflessione sull'eventuale assunzione di una persona con un percorso mentale? Questa è una domanda interessante, anche perché io l'ho fatto e lo faccio questo. Portare la salute mentale nel mercato del lavoro, ad un'azienda, ad un servizio, a quello che è, non è mai semplice. Non è mai semplice perché innanzitutto c'è la riservatezza. Noi trattiamo quotidianamente i dati sensibili e dobbiamo cercare di superare il livello di pregiudizio. Il pregiudizio da questo punto di vista qui è feroce, perché se io metto subito in campo tutte le informazioni relative al passato della persona, non lo faccio perché per una questione di privacy, ok? Ma se io mettessi in campo tutte... Sarebbe già un no. Sono storie importanti di vita. Quindi io che cosa faccio solitamente? Punto tutto sulle capacità della persona. Perché nella salute mentale esistono la maggior parte delle persone, fatte salve in situazioni estremamente particolari, la maggior parte delle persone in una congruenza persona ambiente adeguata possono svolgere la loro parte senza nessun problema. Quindi io lavoro sul concetto di abilità, sul concetto di capacità, su eventualmente delle difficoltà su cui lavorare. Noi non entriamo subito in un'azienda dicendo da domani contratto a tempo indeterminato, otto ore. Noi entriamo o no in punta di piedi, cerchiamo di far conoscere la persona, cerchiamo di costruire la relazione all'interno del posto di lavoro con monitoraggi, con tutoraggi, cioè ci diamo da fare. Cioè non è che consegnate e arrivederci grazie. Proviamo a non farlo, perché a volte può capitare che… Sulla prima fase, incipiente. Esatto, sull'incipit, sull'incipit proviamo. Poi dopo si aprono tantissimi scenari, belli, come si arrivano a delle assunzioni che poi magari dopo un po' queste assunzioni si consolidano ancora di più con un aumento delle ore, è come con licenziamenti, con situazioni particolari. Però non è che differisce tanto dal resto dei lavoratori, cioè il problema è appunto nostro, è mentale, è sul livello di osservazione. Cioè siccome, perché io dico la porto sulle abilità e sulle capacità? Perché se io la portassi su un campo che non è lavorativo, perché l'azienda dovrebbe guardare quanto la persona produce, la velocità nella produzione, la presenza, la costanza, tutte abilità utili nell'assunzione di ruolo. Se io invece portassi lo stato clinico e le esperienze di vita, lo stato sociale della persona commetterei un errore. Quindi io porto, io, noi, chiedo scusa, tutti quanti, noi proviamo a portare il lavoratore con annessi e connessi. Insomma, la persona che può essere utile all'interno di un gruppo di lavoro piuttosto che il caso, il soggetto che ha avuto un percorso precedente di difficoltà. Esatto, proviamo a fare la congruenza, il collocamento mirato fra la persona e l'ambiente, ovvero quanto è la persona capace ad ottemperare a quel ruolo, quindi a quale assunzione di ruolo e quanto il livello di osservazione del datore del lavoro, cioè quanto il datore del lavoro reputa questa attività efficace ed efficiente svolta dalla persona per la propria produttività. Condivido anche io un appello alle imprenditrici e agli imprenditori, ce ne sono tanti davvero sensibili nelle marchi, i marchigiani hanno un cuore grande. Certo, quando si guida un'azienda si deve guardare anche ad altri criteri ed aspetti, però pensiamo, care imprenditrici e imprenditori, a quello che anche voi siete stati nel vostro percorso. Voi vi sareste assunti conoscendo il cammino che avete fatto e per il quale tutti quanti noi abbiamo vissuto dei momenti complessi o meno complessi, per cui conoscete la persona, conoscete la struttura che vi propone dopo averla accompagnata, seguita, valutata e consigliata e poi chissà che dentro quella persona ci possa essere quella che cercavate per il vostro posto di lavoro. Potrebbe succedere, facciamo magari più che una volta all'anno, un paio di volte all'anno non sarebbe male, sarebbe già un bel improvement, diciamo così. Ci fidiamo e ci affidiamo ai nostri grandi imprenditori e imprenditrici marchigiani, la rete del sollievo ci mette la firma e ce la mettiamo anche noi di ETV. Grazie per averci seguito. Grazie.